Dove vai? Devo uscire, vado al bar a prendere un caffè, non ce la faccio più, basta, sono diventato matto, vado via. Buongiorno, che mi fai un caffè? Corto o lungo? Corto, corto. Corto? Ok. Prego. Grazie, molto gentile. Non si va bene se vuole al suo zucchero? Perfetto, anche pure il dongorino qui. Il fuoco dei miei? Grazie, quant'è? Un euro. Siamo ancora a prezzi vecchi. Grazie, buongiorno.